Io e la dottoressa Zannetti che seguirà la mia presentazione e vi ringraziamo innanzitutto i pazienti che sono qua oggi e gli organizzatori per averci dato la possibilità di dare un piccolo contributo nello spiegarvi due strategie terapeutiche molto innovative che sono la terapia con cellule CAR-T e gli anticorpi bispecifici. Questi due approcci terapeutici fanno parte di terapie avanzate di immunoterapia ma prima di entrare nel dettaglio di queste terapie partiamo dal concetto di immunoterapia che nasce dal fatto che così come il nostro sistema immunitario può combattere batteri, virus, cellule estrane al nostro organismo può combattere e uccidere anche le cellule tumorali tra cui le cellule di mieloma. Esistono tantissime cellule che fanno parte con diversi meccanismi d'azione del nostro sistema immunitario e una parte di questi si chiamano linfociti B e linfociti T che suddividono l'immunoterapia in due categorie l'immunoterapia passiva e attiva. L'immunoterapia passiva imita i linfociti B che sono le cellule del nostro organismo che producono gli anticorpi che sono le proteine, le sostanze che circolano nel sangue e ci proteggono dalle infezioni e l'immunoterapia passiva infatti comprende anticorpi monoclonali classici come conoscete bene, ve ne hanno già parlato ampiamente, il daratumumab, l'elotuzumab, l'isatuximab ma anche anticorpi coniugati con una sostanza tossica come il belantamomafodotin che forse alcuni di voi avranno già sentito. Esiste poi un'immunoterapia diversa che si chiama immunoterapia attiva che comprende le cellule CAR-T e gli anticorpi bispecifici che vanno ad attivare il sistema immunitario del paziente. Infatti questi due approcci terapeutici con una proteina specifica vanno ad attivare i linfociti T sani del paziente e attivandoli li dirigono in modo specifico e selettivo contro le cellule di mieloma tramite il riconoscimento di alcune proteine espresse sulla superficie delle cellule tumorali che hanno nomi un po' complessi BCMA, GPRC5D, FCRH5 e i linfociti T sani del paziente essendo stati attivati da queste terapie uccidono le cellule tramite la liberazione in circolo di sostanze citotossiche. Questi due approcci terapeutici sono molto innovativi ci siamo trovati di fronte anche a delle nuove tossicità legate proprio al fatto, al meccanismo di azione di queste terapie quindi all'attivazione del sistema immunitario del paziente che sono la sindrome da rilascio citochinico detta anche CRS e la tossicità neurologica definita ICANS. Che cos'è la sindrome da rilascio citochinico? È una sindrome infiammatoria sistemica quindi generalizzata legata al rilascio in circolo da parte dei linfociti T sani del paziente di sostanze pro-infiammatorie essendo un'infiammazione generalizzata i sintomi sono molto variabili nella maggior parte dei casi i sintomi più comuni sono febbre calo della pressione calo dell'ossigeno nel sangue ma tutti gli organi possono essere coinvolti quindi nausea, rash cutaneo, alterazioni degli enzimi del fegato e via dicendo come vedete dalle percentuali in basso è molto frequente questa sindrome varia dal 70 al 95% dei pazienti ma nella stragrande maggioranza dei casi si manifesta in forma lieve e moderata e infatti si è verificata in modo severo solamente nell'1-5% dei pazienti il tempo di insorgenza è variabile da 1 a 7 giorni dall'inizio di queste terapie la tossicità neurologica invece è molto meno frequente solo un 15% dei pazienti la sviluppa e anche qui come vedete è risultata essere grave solamente nell'1-3% dei pazienti con un tempo di insorgenza analogo alla CRS e spesso comunque frequentemente possono essere associate quindi manifestarsi entrambe e la tossicità neurologica ha dei sintomi estremamente variabili che possono essere molto sfumati a volte anche non riconosciuti se il personale medico o sanitario non è aggiornato o trainato come una lieve cefalea un tremori o anche un'alterazione nella scrittura fino a dei sintomi più gravi invece come le crisi epilettiche o anche uno stato un po' di confusione mentale che però si manifesta solo in una minima parte dei pazienti esistono delle tabelle ovvero delle linee guida su cui non mi addentro ma che sono veramente estremamente utili al clinico per gradare ovvero definire la gravità di queste tossicità da lieve moderata a grave in modo che il clinico in modo tempestivo sappia quando trattare e come trattare questa tossicità e abbiamo due armi molto potenti che sono il classico cortisone che penso che tutti voi conosciate e un altro anticorpo invece un anticorpo monoclonale con un'azione antinfiammatoria diretta contro gli L6 che non è altro che una sostanza infiammatoria liberata dai linfociti T del paziente io ora vi parlo della terapia con cellule cartie poi lascio la parola a Beatrice che invece entra nel dettaglio degli anticorpi bispecifici la terapia cellulare è un processo un po' indaginoso perché prevede vari step vari passaggi innanzitutto nella selezione del paziente che deve avere determinate caratteristiche e nell'invio del paziente a centri di riferimento dove viene eseguita questa terapia cellulare ad esempio per l'Emilia Romagna i centri di riferimento sono Bologna e da poco anche Reggio Emilia in associazione a Modena una volta che il paziente è stato inviato al centro e candidato a questa terapia viene inviato alla raccolta dei suoi linfociti T sani che non è altro che un po' come la feresi che vi spiegava prima la dottoressa Gamberi delle cellule staminali ovvero è come una donazione di sangue e poi questa sacca di sangue viene filtrata e vengono trattenuti solamente i linfociti T del paziente che vengono poi inviati a un laboratorio dove questi linfociti tramite un meccanismo di ingegneria genetica con un virus vengono modificati geneticamente ovvero vengono riprogrammati in modo che questi linfociti riconoscano come strani solo le cellule di mieloma tramite delle proteine espresse selettivamente dalle cellule tumorali e quindi quando poi vengono reinfusi questi attaccano tutti le cellule staminali una volta che i linfociti T vengono ingegnerizzati vengono poi stimolati a crescere perché devono anche essere in un numero sufficiente per avere un effetto terapeutico una volta che poi questo processo è concluso vengono congelati e riservati al momento della reinfusione questo processo che viene definito di manufacturing quindi di ingegnerizzazione dura circa 4 settimane in totale dalla feresi al congelamento di questi linfociti successivamente c'è il ricovero del paziente che dura più o meno altre 3 o 4 settimane il paziente viene ricoverato viene eseguita una chemioterapia standard classica con due farmaci che sono il busulfano e la ciclofosfamide che va a distruggere un pochino il sistema immunitario del paziente in modo da far spazio ai linfociti ingegnerizzati che vengono reinfusi e poi il paziente durante il ricovero viene monitorato appunto per valutare lo sviluppo delle tossicità di cui vi ho parlato prima ad oggi i due prodotti cellulari più avanzati hanno questi due nomi un po' complessi noi li abberviamo con Aidecel e Siltacel Aidecel è stato il primo prodotto cellulare che è valutato in studi più avanzati di fase 2 e fase 3 e oggi è approvato in pratica clinica per i pazienti che hanno ricevuto almeno tre linee precedenti di terapie comprensive di almeno un inibitore del protesoma come il bortezomib o il carfizomib un immunomodulante come la lenalidomide e un anticorpo monoclonale anti-CD38 come ad esempio il daratumumab o lisatuximab e l'altro il fratello più o meno gemello di Aidecel è Siltacel è un prodotto simile diretto sempre contro entrambi i due prodotti sono diretti contro una proteina espressa dalle cellule di mieloma che si chiama BCMA e che è approvato in Europa ancora non in Italia ma si pensa che entro il prossimo anno sia approvato anche in pratica clinica quest'altro prodotto comunque ad oggi esistono tantissimi studi sperimentali che valutano altri prodotti anche cellulari oltre Aidecel e Siltacel o anche Aidecel e Siltacel in linee più precoci di trattamento perché visti gli ottimi risultati in pazienti che hanno ricevuto più linee di terapie si è pensato di porsi la domanda ma perché non utilizzarli in fase più precoci e quindi sono in corso studi clinici di cui sapremo i risultati sicuramente nei prossimi anni che valutano questi prodotti cellulari sia all'esordio di malattia confrontandoli ad esempio con il trapianto autologo che è da anni considerato lo standard of care dei pazienti elegibili o anche questi prodotti cellulari per i pazienti che in realtà non sono candidati al trapianto autologo oppure ci sono altri studi che valutano questi prodotti cellulari alla prima recidiva di malattia io adesso lascio la parola a Beatrice che invece vi parla degli anticorpi bispecifici grazie buongiorno a tutti allora anticorpi bispecifici nel trattamento del mieloma multiplo si tratta di un argomento sicuramente molto di moda molto trendy in questo momento l'anticorpo bispecifico è una molecola con due siti di legame vediamo se funziona con due siti di legame da una parte lega il CD3 espresso dall'infocita T mentre dall'altro lato lega una specifica molecola target espressa dalla cellula di mieloma questo doppio legame determina una potente attivazione del sistema immunitario contro il tumore gli anticorpi bispecifici si classificano in base alla molecola target quindi abbiamo anticorpi bispecifici anti-bcma dove bcma è una molecola altamente espressa dalle cellule di mieloma è un target ottimale per l'immunoterapia e teclistamab e eranatamab sono i due anticorpi bispecifici anti-bcma approvati da AIFA ma come vedete ci sono tanti altri anticorpi bispecifici anti-bcma in fase di sperimentazione teclistamab è il primo anticorpo bispecifico approvato da AIFA utilizzabile a brevissimo in pratica clinica forse ne avrete letto o sentito parlare i giorni scorsi sui giornali perché è stato pubblicato sul Corriere anche proprio un articolo dedicato a teclistamab per quanto riguarda l'indicazione per pazienti che abbiano ricevuto almeno tre precedenti linee terapeutiche compresi un agente monomodulante un inibitore del proteasoma e un anticorpo anti-CD38 la modalità di somministrazione è semplice si tratta di un'iniezione sotto cute tutti gli anticorpi bispecifici prevedono una fase di step up dosing cioè una fase di incremento graduale del dosaggio al fine di limitare l'insorgenza delle tossicità acute e durante questa fase il paziente viene ricoverato nella degenza ematologica in modo da essere strettamente sorvegliato monitorato e in modo da poter intervenire prontamente in caso di comparsa di segni o sintomi per quanto riguarda Teclistamab viene poi somministrato al dosaggio di 1.5 mg chilo una volta alla settimana in dei hospital fino a progressione e vi è la possibilità di passare alla somministrazione ogni 14 giorni per i pazienti in remissione completa e il Ranatamab è l'altro anticorpo bispecifico anti-bcma approvato da AIFID utilizzabile a breve in pratica clinica l'indicazione e la modalità di somministrazione sono le stesse che abbiamo visto per Teclistamab vi è sempre una fase di step up dosing se riesco non ce la faccio e per quanto riguarda il dosaggio l'unica peculiarità è che la dose è fissa quindi non è una dose calcolata pro chilo e poi abbiamo nella fase dei hospital un dosaggio di 76 mg una volta a settimana fino a progressione con la possibilità di passare alla somministrazione ogni 14 giorni dopo almeno 6 mesi di trattamento per i pazienti in risposta per quanto riguarda le tossicità legate all'utilizzo degli anticorpi bispecifici abbiamo delle tossicità comuni a tutte le terapie attivanti linfociti T quindi CRS e ICANS che avete appena visto e poi delle tossicità invece specifiche legate alla molecola target che utilizziamo nel caso degli anticorpi anti-bcma abbiamo citopenie cioè abbassamento dei valori dell'emocromo soprattutto dei granulociti neutrofili ipogamma globulinemia cioè carenza deficit di anticorpi e un aumentato rischio di infezione come gestiamo queste tossicità con l'utilizzo del fattore di crescita con la supplementazione di anticorpi raccomandando le vaccinazioni anti-influenzale anti-covid anti-pneumococco utilizzando una profilassia anti-pneumocistis e antivirale GPRC5D è una molecola dal nome molto difficile dalla funzione ancora non ben conosciuta altamente espressa dalle cellule di mieloma ma si trova anche su strutture composte da cheratina talquetamab è l'anticorpo bispecifico anti-GPRC5D approvato da AIFA e anch'esso utilizzabile a breve in pratica clinica l'indicazione e la modalità di somministrazione sono sempre le stesse viste per teclistamab e per erranatamab vi è una fase di step-up dosing che dura circa una settimana mentre per quanto riguarda la fase successiva talquetamab si somministra al dosaggio di 08 mg chilo ogni 14 giorni quindi ha una somministrazione un pochino più dilazionata sempre fino a progressione per quanto riguarda le tossicità specifiche relate all'antigene GPRC5D queste sono certamente molto particolari il paziente può presentare disgeusia cioè alterazione dei sapori sensazione di bocca secca disfagia quindi difficoltà nella deglutizione stomatite quindi infiammazione della bocca e della lingua perdita di peso ma anche ritema cutaneo disquamazione cutanea onicopatia cioè alterazione a livello delle unghie come si gestiscono queste tossicità con colluttori e creme specifiche con la collaborazione con il dermatologo e il nutrizionista e può essere necessario sospendere temporaneamente il farmaco oppure dilazionare ulteriormente le somministrazioni allora non vi spaventate per la diapositiva in inglese allora vista la grande efficacia degli anticorpi bispecifici sono in corso in tutte le ematologie protocolli clinici che ne valutano l'utilizzo nelle fasi più precoci perché abbiamo detto l'approvazione è a partire dalla quarta linea e in combinazione con altri farmaci perché l'approvazione è in monoterapia qui vi ho riportato gli studi attivi presso il nostro centro abbiamo uno studio con teclistamab che viene valutato nella malattia di nuova diagnosi quindi all'esordio nella fase di mantenimento post trapianto abbiamo un altro studio con elranatamab sempre utilizzato nella malattia di nuova diagnosi nel paziente non elegibile a trapianto in combinazione con altri farmaci oppure ancora un altro studio con talquetamab eventualmente associato a teclistamab e eventualmente associati anche ad altri farmaci nella malattia alla recidiva e ancora un altro studio con l'invo seltamab che è un altro anticorpo bispecifico anti-bcma sempre nella fase della malattia recidivata quindi idealmente nell'arco di qualche anno avremo a disposizione in pratica clinica sia gli anticorpi bispecifici sia le cellule CAR-T quindi sarà importante riuscire a definire la terapia più adatta per quel determinato paziente quindi sempre in un'ottica di personalizzazione delle cure cellule CAR-T per quali pazienti? pazienti assolutamente fit quindi assolutamente in forma con pochissime comorbidità età idealmente fino a 70-75 anni per riuscire a sopportare una terapia così potente il paziente non deve avere una malattia rapidamente progressiva non deve avere masse extramidollari e la funzione renale deve essere nella norma la terapia con cellule CAR-T è una terapia cosiddetta one shot cioè si fa solo una volta si fa solo un'infusione dopo non è necessaria una terapia di mantenimento è però una terapia complessa perché vi è la necessità di richiedere appunto cosiddetto slot c'è un tempo di attesa per avere lo slot un tempo di attesa per la produzione dei linfociti T ingegnerizzati e poi come vi diceva Serena questa terapia non è disponibile in tutte le ematologie ma solo in pochi centri selezionati il ricovero ospedaliero ha una durata di almeno 15-20 giorni e vi è sicuramente una maggiore incidenza di effetti avversi gravi la terapia con anticorpi bispecifici invece non ci dà grossi problemi per quanto riguarda l'età e le condizioni cliniche del paziente si può utilizzare anche in caso di malattia rapidamente progressiva la funzionalità renale deve essere discreta ma non perfetta come abbiamo visto le somministrazioni sono settimanali o quindicinali ma il trattamento è un trattamento continuativo quindi fino a progressione il farmaco si dice è pronto all'uso cioè è subito disponibile non ci sono dei particolari tempi d'attesa è necessario un ricovero ospedaliero di 5-7 giorni per la fase di step up dosing e l'incidenza di eventi avversi gravi è bassa quindi per concludere le terapie attivanti le cellule CAR-T CAR-T e B specifici stanno rivoluzionando certamente lo scenario terapeutico del mieloma multiplo e diventeranno a brevissimo lo standard of care nella malattia recidivata queste nuove terapie hanno anche delle nuove tossicità che stiamo imparando a conoscere e a gestire quali la sindrome da rilascio citochinico e la tossicità neurologica ma vi sono anche altre tossicità le tossicità tardive quali ipogamma globulinemia aumentato rischio di infezioni che richiedono appunto uno stretto monitoraggio del paziente la scelta del trattamento più adatto per il nostro paziente come ho provato a riassumere nella diapositiva precedente è basata su molteplici fattori quali la disponibilità del farmaco le caratteristiche della malattia e le caratteristiche del nostro paziente quindi certamente per noi rappresenterà un'ulteriore sfida nel trattamento del mieloma multiplo e questa è la diapositiva che avete già visto ringrazio i miei colleghi ringrazio tutto il reparto di ematologia e ringrazio voi per essere qui grazie a tutti grazie a tutti